E' la storia di un ragazzino di nome Michael Morbius, sfigato, malato ed emarginato, che nell'istituto dove non stanno trovando una cura per il suo male, fa amicizia con Milo, un altro ragazzino malaticcio come lui. Malaticcio sì, per modo di dire, perché sembra più di là che di qua, e sta in piedi col vento a favore. Michael Morbius è un ragazzino brillante, anzi direi super intelligente, ma dal carattere un po' difficile. Infatti in età adulta gli conferiscono il premio Nobel per la biochimica, ma lui lo rifiuta. Questo perché nemmeno i soldi lo sollazzano, e possono distoglierlo dal profondo stato di sconforto e intristimento che la malattia gli provoca. Visto che deve sottoporsi a continue trasfusioni, deambula a fatica e solo grazie a delle stampelle, e non può invece correre felice sui prati come Giorgi. Il suo unico scopo nella vita è trovare una cura per la sua malattia, e per riuscirci sta conducendo pericolosi e soprattutto illegali esperimenti col DNA dei pipistrelli vampiro. Ma scusa, ma proprio i pipistrelli vampiro? Con tutti gli animali carini che ci sono, vabbè. Gli unici momenti in cui lo vediamo sorridere un po' è quando sta col suo amico Milo, praticamente degli zombie che parlano fra di loro dei loro problemi e dei loro disagi. Un po' come Averissimo. In effetti Morbius non è proprio il ritratto della salute, e decide di fare da cavia per i suoi stessi esperimenti. Tanto voglio dire, è già conciatello, e peggio di così non può certo andare. Invece ci va, e Morbius diventa all'improvviso un vampiro assetato di sangue. Shock! Ma non tutto il male viene per nuocere perché quando ritorna in sé, scopre che si è ristabilito ed è diventato anche un figo da paura. Anziché venigli la rabbia, il tetano o tutt'al più una grave dissenteria, gli vengono un fisico scultorio, il super udito, lo sguardo magnetico, la super forza, la super agilità. E di conseguenza, penso, gli sarà passata la depressione, no? No! Anche perché incominciano i primi screzzi fra lui e Milo, che rosica dopo aver visto l'effetto su Morbius e vuole assolutamente provare anche lui. Morbius invece, che si è reso conto di essere diventato un mostro, boh, dice no 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 no, Milo dice sì sì sì, Morbius dice no no no, ma alla fine Milo prende il siero di nascosto e diventa anche lui una specie di vampiro vivente. Molto meno figo però. Anzi, lui è abbastanza cesso, specialmente quando si trasforma. Intanto, due discutibili quanto improbabili i poliziotti indagano senza cavare un ragno dal buco, anche perché se cercano ragni avrebbero sbagliato film, nonostante gli ovvi riferimenti a Spider-Man che ci sono in questo. Ad un certo punto, Morbius viene sospettato a caso e il vampiro pensa bene di trasformare questi sospetti in prove schiaccianti, scappando e mostrando ai poliziotti le sue abilità superumane. Allora sei deficiente! Fra l'altro, uno dei poliziotti riesce a correre gli dietro e a beccarlo, anche se Morbius è un vampiro con agilità, forza e velocità superumane. Va bene che è nero, ma penso che in questo caso anche Usain Bolt avrebbe avuto delle difficoltà. Comunque, verrà quindi incarcerato e qui i due poliziotti danno il meglio. Senti, hai ucciso otto uomini, ma erano mercenari e sicuramente era brutta gente, perciò il tuo lavoro ci potrebbe anche aver fatto un favore. Magre dire una donna singola incinta no, questo non dovevi farlo caro mio, ti diamo l'ergastolo. E ci tengo a precisare che non è un'esagerazione mia, eh, è proprio andata così. Ma andiamo bene, proprio bene. Però il suo amico Milo, in veste di avvocato, lo aiuta ad evadere lasciandogli una busta di sangue. Solo bevendo sangue, infatti Morbius recupera tutte le forze e i suoi poteri. Ma come cavolo ha fatto Milo a portargli il sangue in una cella di massima sicurezza? Non lo controllano? Cioè io non posso portare nemmeno una boccetta di profumo sull'aereo? Beh, molto meglio non porsi mai domande di questo genere. Scoperto che l'amico Milo ha preso il siero, i due finiscono per litigare e lottare nella metropolitana. E Milo, al contrario di Michael, ci sguazza proprio bene nella sua nuova condizione di vampiro. Perciò Morbius decide di volare via con le pive nel sacco e magari trovare una cura. E bravo, lascia pure il tuo amico libero di andare in giro a bere gente innocente come se fossero dei succhini. Fra l'altro Dulcis in fundo era proprio Milo che lo finanziava. E qui arriva il delirio degli sceneggiatori, ragazzi. Morbius infatti va in un bar con la sua amica barra collega e grazie al super udito scopre dei falsari. A caso. Così li segue nel loro laboratorio. Spacca la mano a uno per spaventare tutti e farli fuggire. E quindi impossessarsi del loro laboratorio. Dove ci sono dei macchinari per la stampa di banconote false. Ma lui spostando qualche pezzo, aggiungendo una molletta, due stuzzicadenti e qualche alambicco, riesce a trasformarli in macchinari per esperimenti biochimici. Chi sono gli autori? E così si sintetizza un antidoto. O per meglio dire un veleno. Per suicidarsi e porre fine alle sue sofferenze. E così la sua amica barra collega finalmente se lo fa. Perché sì. D'altronde lui è soltanto un povero depresso e un omicida di massa. Che vuoi che sia? Ha un così bel faccino. Nel frattempo il dottore che ha seguito i due amici per tutta la vita e che sembra non essere mai invecchiato nonostante si occupasse di loro fin da bambini. Quindi boh, forse è un vampiro anche lui, scopre che il cattivone che sta continuando ad uccidere non è Morbius, bensì Milo. Così va a casa sua per capire che succede. E Milo lo aggredisce senza un apparente motivo. Prima dicendogli di portare a Morbius un suo messaggio e poi massacrandolo. Ma scusa ma se lo riduci in fin di vita? Come cazzo fa a portargli il messaggio? Deve essere un demente! Non contento, Milo va a uccidere la ragazza. E Morbius arriva giusto in tempo per vederla morire. E qui non si capisce bene se lui tenta di rianimarla col suo sangue o se si becca un po' di quello della ragazza già morente per diventare più forte e affrontare lo scontro finale con Milo. Boh, comunque lo scontro è assurdo e si capisce molto molto poco. Tutto buio, troppo buio e dinamicità estremamente confusa per via anche dello sfarfallio continuo dei due vampiri. Vi dico solo questo. Alla fine Morbius, appeso a testa in giù come un vero pipistrello, si mette a strillare onde sonore e poi cade a terra come uno stronzo d'uccello. Questo però raccoglie lì tutti i pipistrelli del globo a quanto pare e il loro signore scatena contro Milo una mega ondata di pipistrelli, una Comoriamea, ovvero una Kameamea fatta di pipistrelli, che bloccano il rivale al muro così Morbius può zompagli addosso e iniettagli il siero mortale. Chi sono gli autori? La ragazza ovviamente si risveglia e con un plot twist inaspettato o più semplicemente un errore grande come una casa, lo scopo principale di Morbius, che era di guarire prima dalla sua malattia debilitante e ora dalla sua condizione di vampiro, è andata completamente a farsi fottere. Fine! Stavolta però voglio citare le scene post credit, perché ce ne sono ben due e sono entrambe insensate. A causa delle fratture dimensionali che collegano il multiverso, l'avvoltoio compare all'improvviso dentro una cella vuota in un penitenziario. Ma scusa, ma lui faceva già parte dell'universo di Spider-Man di Tom Holland? Per quale motivo una frattura dimensionale avrebbe dovuto spedirlo in un altro universo? Le fratture si erano create per colpa dello Spider-Man di Tom Holland, perciò sono gli altri universi che si sono riversati nel suo, non il contrario. Nella seconda scena, forse ancora più enigmatica della prima, vediamo l'avvoltoio con l'armatura d'avvoltoio che contatta Morbius per chiedegli di collaborare e lui accetta di buon grado. Primo, come Capperie ha fatto l'avvoltoio a costruirsi una nuova armatura uguale a quella vecchia in quell'universo se la tecnologia usata per crearla era una tecnologia aliena dell'altro universo. Secondo, perché Morbius accetta? Cioè non lo sai che questo è un supercriminale? Oppure è Morbius che è diventato cattivo all'improvviso? Cioè ha scoperto che la sua amichetta scienziata ha preferito OnlyFans a lui? Boh, come rovinare un film dal grandissimo potenziale. Una trama banale, barbosa, stupida, piena di errori? Boh, veramente poco poco intrigante. Credo che sia uno dei film più inutili dell'universo Marvel. Comunque ringrazio tantissimo Andrea Spingardi che gentile me l'ha regalato in Blu-ray per la mia collezione, che essendo una collezione di tutto rispetto purtroppo deve contenere anche pezzi squallidi come questo. Vi ricordo del mio libro È sempre colpa degli uomini? Una vincente quanto sconvolgente lettura da fare quest'estate magari sotto l'ombrellone oppure anche a casa. Dove preferite voi insomma? E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!